Baugiorno, sono Stefano e ti do il mio benvenuto su Dogfather. Il sito divide informazione a sei zampe, dedicato a quelli come noi che amano la follia il proprio cane. Sono bolognese, ma questo forse l'avrei già capito. La terra della pasta, e manco a farla apposta, vengo da una famiglia di panettieri. Ma la mia passione, oltre alla pasta, sono gli animali. Ed è così che dall'unione di questi due grandi miei amori è nata Bubi. La linea artigianale di biscotti per cani, che si sgranocchiano di nascosto anche gli umani. Sì, hai capito bene. Nel produrre i gustosi biscottini, i pasticcini, i bocconcini, i premietti, ma chiamali mo' come voi te, utilizziamo solo ingredienti sani e di prima scelta, per capirci meglio quelli destinati all'uso umano. La parola scarti la lascio agli altri, perché la nostra è una cucina casalinga. Homemade, come direbbero gli americani, perché fatta in casa da un'azienda familiare. Ma te, lo sai che noi siamo quello che mangiamo? E non importa che tu abbia due o quattro zampe. Il concetto è sempre lo stesso. Chi mangia bene, vive bene. Felice, cantento e più a lungo. Se hai a cuore la salute del tuo cane, potrai seguirmi con pilloline video di pochi minuti, che potrai guardare dove e quando vuoi tu, e imparare quello che non ti raccontano in tv. E ricordati sempre, la salute del tuo cane dipende solo da te. Ti auguro una giornata fantastica!